Strettissimo legame tra la mafia barcellonese e quella catanese. Affare d'anello di congiunzione, l'imprenditore Salvatore Santa Lucia, 61enne di Roccella Valdemone, uomo legato alle note famiglie mafiose dei Santa Paola a Catania, Bisognana e Calabrese a Barcellona. Un'evoluzione di interessi iniziati prima nel settore dell'allevamento, poi in quello del movimento terra e infine attraverso i rapporti con grandi esponenti mafiosi nel settore degli appalti e in quello eolico. Quattro aziende, 294 terreni tra Roccella Valdemone, Gagge e Castiglione di Sicilia, 21 fabbricati, 27 auto e rapporti finanziari per un valore totale di quasi 27 milioni di euro. Questi i beni sequestrati all'imprenditore. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Messina richiesto dal direttore della Dianunzio Ferla, firmato dal giudice Santi Trovato, rappresenta il culmine di anni di indagini attorno a una figura rivelatasi determinante come quella di Santa Lucia. Già attraverso operazioni come Hermes, Dionisio, Arcangelo, Iblis e Omega Obelisco, gli inquirenti erano riusciti a fare emergere gli stretti collegamenti tra l'imprenditore e gli ambienti mafiosi di Catania e Barcellona. In particolare, nella provincia messinese, Santa Lucia usava a mantenere i contatti con i boss Gullotti e Rampulla. Anche nell'operazione Gota 3, le indagini dei carabinieri del Ross di Messina avevano messo in evidenza il legame tra l'imprenditore e il capo mafia barcellonese Carmelo Bisognano, alla sorella Vincenza, al suo stretto collaboratore Beniamino Cambria e al boss Tindaro Calabrese, erede di fatto di Bisognano. Questo provvedimento ottenuto dalla DIA è molto interessante perché fa emergere nell'ultimo decennio un filo rosso che ora viene focalizzato con maggiore attenzione tra tutta una serie di indagini contestuali della DDA di Catania e della DDA di Messina che testimoniano che si integrano a vicenda e fanno emergere questo speciale rapporto tra le due mafie.